Quanto c'è di vantaggio? Mauro, sta arrivando? Sì, è sicuro. Quanto c'è di vantaggio? 45 minuti c'è a me che è arrivato qui, te l'hai vedendo? 20 di meglio. Tra poco sono quelli che bevono. Però è... Dante la borraccia lo sai te di chi è? Sì. Acqua, sali. Sono qui, sono qui. Bravi. E' un bel bucchio, eh. Oh, specialmente. C'è il vostro. Ancora, ancora... Cazzo quanta prece questa grande. Vai, vai, vai. Acqua, sali. Vai, vai, vai. Vai, Vega. Acqua, sali. Se vende niente. No, questi hanno accettato. Loro hanno le sue borracce là. Vai, vai. Vai. Questo è uno degli aretini. Forza. Non scende il petto. Non scende. Tanto Dante, guarda. Basta Dante. Ma stai di qua. Vai, vai. Marta, ti lascia il petto in mano se qualcuno le volesse. Tantiretto. Basta Dante. Ma stai di qua.